Claudio Segna, titolare della Segna Legnami. Il nostro prodotto principale sono i segati, travi, uso fiume, uso trieste e abbiamo messo dei nuovi macchinari molto tecnologicamente avanzati. Questo ci consente di produrre in maniera veloce un prodotto certificato, bello e certificato. Lei deve dire scegliete, segna, legnami, perché? Perché facciamo un prodotto eco, sostenibile e economico e bello perché il legno è caldo, è vivo e ci dà soddisfazioni, ce l'abbiamo nel cuore.